Tiago Silva è considerato il miglior difensore al mondo, tu credi che sia arrivato al livello di Franco Baresi, ormai questo paragone è all'ordine del giorno? Per me Franco è il numero uno, rimane il numero uno dei difensori negli ultimi 40 anni, sono tutti quelli che ho avuto la fortuna di vedere io. Per me non c'è difensore più bravo di Franco, ha avuto un rendimento per 20 anni al mila che credo io non ho mai visto nessun giocatore. Il rendimento più alto sicuramente l'ha avuto lui, costante, poi qualcuno ha avuto dei picchi forse anche più alti come Van Bast, giocatore di grande classe come Rud, ma il rendimento costante che ha avuto Franco io credo Carmina non l'abbia avuto nessuno. Noi ci auguriamo che i nostri campioni rimangano perché abbiamo bisogno di loro, perché sono l'asse portante della squadra, perché ci hanno portato a vincere l'anno scorso lo Scudetta, ad arrivare secondi, a giocare la Coppa dei Campioni, insomma diventa difficile senza campioni. Esiste perché ci sono squadre che possono fare proposte forti e a quel punto diventa difficile trattenere qualcuno, insomma, è già successo con altri giocatori in altre società importanti, è successo con Eto'o all'Inter, il giocatore più importante della squadra, ma davanti a certe proposte diventa difficile trattenere i giocatori. Noi speriamo non succeda, però vediamo, aspettiamo, insomma si tratta di aspettare un po' di tempo.